Grazie, cercherò di essere lieve data l'ora, diciamo la tarda ora. Ho sentito, ho imparato molte cose stamattina e più o meno voglio dirvi alcune pennellate sul tema della sostenibilità ambientale e del capitale sociale. Diciamo che negli ultimi 5-10 anni ho iniziato a lavorare da 30 anni, lavoro su questi temi, dall'eco solidale alla sostenibilità ambientale e sono adesso presidente del comitato etico del primo fondo investimento etico italiano. Noi abbiamo iniziato 20 anni fa a parlare di sostenibilità ambientale quando non ne parlava nessuno, adesso ci sono tutti. Oggi BlackRock scrive lettere alle aziende, sapete uno dei più grandi fondi investimento mondiali, dicendo che se non sono socialmente e ambientalmente responsabili toglierà i soldi. Quindi la responsabilità ambientale oggi, ho detto l'amministratore di Iveco, non è più una questione di marketing, né i consumatori, né gli investitori, direi più gli investitori che i consumatori diciamo, non ti lasciano scampo se non sei realmente sostenibile. Infatti dov'è che le situazioni sono cambiate? In finanza, nei mercati finanziari. Oggi sui mercati finanziari, i mercati finanziari hanno votato per la sostenibilità ambientale. Fatti eclatanti sono per esempio la differenza di Tesla, oggi vale più della Ford in borsa. Tesla non vende quasi niente, ancora vende poco, la Ford vende milioni di auto. Se Tesla vale di più vuol dire che il prezzo che riflette gli utili futuri attesi scontati dell'azione, vuol dire che gli utili futuri di Tesla, prevede il mercato, saranno molto più alti di quelli di Ford. Tesla è un vincente, Ford no. Quindi i mercati finanziari hanno deciso, hanno votato e oggi se non si è ambientalmente sostenibili c'è qualche rischio grosso per il futuro, c'è il rischio sulla sostenibilità economica del futuro. Sapete la dichiarazione per esempio sul valore dei tempi. Però io voglio parlarvi un po' di sostenibilità ambientale ma anche di sostenibilità sociale perché il sistema economico è un sistema costruito tutto, lo sappiamo dall'origine, sul benessere dei consumatori, su profitti delle aziende ma a due ruote sgonfie che si stanno piano piano gonfiando che sono quelli della sostenibilità sociale e ambientale. I due temi del futuro che iniziano oggi e domani saranno molto importanti sono quelli della sostenibilità sociale del lavoro e della sostenibilità fiscale. Pensate a quello che ha dovuto fare Facebook recentemente sul tema dell'illusione fiscale. Questi sono i due grandi temi del futuro. Sulla sostenibilità ambientale sappiamo molto, sapete che oggi gira molto questa rappresentazione che cerca di mettere assieme l'aspetto sociale e l'aspetto ambientale. Viviamo dentro quella ciambella che dobbiamo sempre più allargare con la tecnologia, cioè non dobbiamo sfondare né il limite superiore che sono i limiti ecologici del pianeta né dobbiamo sfondare il limite inferiore perché avremo problemi di povertà. E quindi l'imperativo è creare valore economico in maniera sostenibile. Noi come Etica e SGR abbiamo questo simbolo carino che è l'elefante sulla piuma. Il sistema economico deve essere un elefante ma deve essere leggero come una piuma. Quindi sempre più si utilizzano indicatori come la CO2 sul PIL, indicatori che combinano l'aspetto ambientale con l'aspetto economico. Quindi oggi il problema è che la sostenibilità ambientale della creazione di valore economico si misura attraverso l'impronta di carbonio del GTP, quanto a CO2 si produce per GTP. Poi a livello micro sappiamo che è la carbon footprint dei prodotti, è la carbon footprint dei nostri portafogli. Questo è un dato molto interessante, è uno studio recente, migliaia e migliaia di dati, è il rapporto prezzo-utili, sapete che c'è una banca dati oggi che si chiama RepRisk che misura l'indice di reputazione ambientale delle aziende, che usano tutti i fondi di investimento in borsa. E abbiamo preso le aziende, gli anni in cui le aziende avevano RepRisk zero e gli anni in cui le aziende avevano RepRisk positivo, cioè un rischio ambientale. Nel parlare dei media, dei blog, eccetera, eccetera. C'è una differenza enorme, questo è solo il dato descrittivo, ma poi economicamente più sofisticato, eccetera. C'è una differenza enorme nel rapporto prezzo-utili. Le aziende che hanno una reputazione ambientale più alta hanno un rapporto prezzo-utili più alto, quindi attesa di utili futuri maggiori. La stessa storia del discorso Tesla-Ford. E se volete del discorso ILVA-West Alpine, che sono le due grandi imprese di acciaio che producevano nei centri urbani, da anni, l'Inz e Taranto, sappiamo come è andato a finire. E sappiamo che il West Alpine ha cominciato da molto tempo prima a investire sulla sostenibilità e oggi produce acciaio pulito all'interno dei centri urbani. Si è parlato, e mi è piaciuto molto questo riferimento, perché è uno dei temi su cui lavoro di più, del fatto che bisogna riuscire a far capire al consumatore l'importanza e il valore di quello che si fa. Devo dire che appunto mondi come quello di banca etica, eccetera, hanno sempre lavorato su questo, perché il loro vantaggio competitivo era questo qui. Questo è uno studio molto interessante che noi abbiamo fatto prendendo la ricerca di Oxfam, che come sapete ha fatto una classificazione, ha dato le pagelle alle dieci più grandi multinazionali del cibo su temi dell'ambiente e del sociale. Sono proprio le pagelle. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo queste pagelle all'interno dei supermercati della GDO. abbiamo fatto un esperimento in una serie di punti vendita e abbiamo misurato l'effetto nei due mesi successivi di questa classifica. la leader della classifica era Unilever, ha guadagnato il 6% di mercato, le ultime tre hanno perso il 15%. Quindi ovviamente c'è anche una capacità di rendicontare ai consumatori. È nato un progetto che stiamo portando avanti oggi, purtroppo non è il video se non lo faccio vedere, ma lo potete scaricare in internet, si chiama IonBuy. È un progetto di tutta la rete della società civile italiana, sindacati, associazioni consumatori, che sta costruendo un TripAdvisor a tre dimensioni. Un TripAdvisor dove oltre alla qualità del prodotto si misureranno le stellette della sostenibilità ambientale e sociale in un dialogo e un discorso di autovalutazione anche collettiva e partecipato, un meccanismo di reputazione collettiva, che quindi è diverso dalla certificazione, ma dipende dalla interazione tra cittadini, consumatori e imprese. In Brasile questa cosa già esiste, si chiama Reclame a Chi, ed è un sito dove milioni di brasiliani vanno e possono scegliere come e dove comprare e hanno una valutazione sintetica delle aziende. Questo è un altro progetto che abbiamo fatto, Inventi Supermercati, in questo caso era più semplice, non era la classifica, ma era il sottolineare la sostenibilità ambientale di alcuni prodotti. Questo è anche il modo in cui oggi tutto questo viene integrato nelle analisi del governo. Sapete che il documento di economia e finanza del governo oggi deve includere anche delle proiezioni sugli indicatori del BES, e tra gli indicatori del BES la CO2, quindi di fatto questa è la carbon footprint del progetto del governo, da cui si vede che non sta rispettando gli accordi di Parigi, perché il rapporto con il CO2 non migliora abbastanza. Sappiamo che negli SDGs il tema della sostenibilità è sempre maggiore, ma è sempre maggiore il discorso della partnership, cioè della collaborazione con la cittadinanza attiva e con le imprese. Questa è la grande novità di oggi. Il mondo cambia a quattro mani e non a due mani. Ieri abbiamo inaugurato un workshop FAO con 110 studenti da tutto il mondo, il mio corso e altre tre università, e il mantra era noi non possiamo fare nessun progetto se non abbiamo la partecipazione della società civile. Quindi la partecipazione della società civile è molto importante. Come vedete il punto 12, consumo e risparmio responsabile, il punto 17, partnership for goals, ci parlano di obiettivi che non sono solo calati dall'alto, ma che si possono sviluppare solamente se creiamo partnership con società civile e con imprese sostenibili. Questa è la nostra carbon footprint, il Montreal Pledge, è un accordo di qualche anno fa che mette assieme 12 trilioni di dollari di fondi di investimento. E' da lì che viene la pressione. 12 mila miliardi di dollari sono fondi che hanno deciso di cominciare a misurare la carbon footprint del loro portafoglio d'idoli con un obiettivo progressivo di riduzione. E quindi questo crea una pressione enorme sulle aziende e poi a valle su tutti gli altri perché quelle 10 che abbiamo visto prima ovviamente se la cavano facendo dei disciplinari e scaricando la CSR sui loro fornitori. Quindi tutto scende a valle. Questo è il modo in cui misuriamo anche l'impatto di tutto questo è un po' come il biglietto delle ferrovie dello Stato cioè misuriamo quanto investire e questo è anche interessante forse dal punto di vista vostro cioè dare al cittadino una misura dell'impatto della generatività della loro scelta per esempio del vostro prodotto rispetto a un benchmark di mercato sui temi della sostenibilità. Però ripeto il tema della sostenibilità sociale è molto molto serio e sta scoppiando è anche il tema politico di oggi cioè noi sappiamo che nel mondo questo è lo spaccato di Oxfam sul settore tessile tra il 40 e il 60% dei lavoratori del tessile sono sotto il salario minimo di quei paesi e il salario minimo di quei paesi è un quarto del salario di sopravvivenza. Quindi il problema qual è? Il problema è che in tutto il mondo abbiamo un problema di dumping sociale e il dumping sociale fa sì poi che la crescita di produttività nei nostri paesi non si accompagna è una crescita dei salari e fa sì soprattutto crea soprattutto questa cosa che poi voi vedete sui consumi cioè crea una divaricazione della società una polarizzazione della società. Da una parte abbiamo gli high skilled che sono quelli nei paesi ricchi e nei paesi poveri con competenze elevate con la cui quota lavoro prodotto sta crescendo dall'altra abbiamo i low skilled che sono quelli con competenze basse che competono con le macchine con lavoro a basso costo dei paesi poveri ed emergenti e i cui salari precipitano a questi due mondi corrispondono due stili di consumo diverso i low skilled vanno necessariamente verso gli hard discount verso il prezzo il prodotto a bassa qualità gli high skilled sono quelli più sensibili a tutto il tema dei prodotti sulla sostenibilità e questo poi produce anche un problema politico perché ovviamente una parte molto importante dei cittadini nei paesi ricchi ricade proprio in quel gruppo che sta perdendo terreno quindi la sostenibilità sociale sarà un grande tema del futuro per quanto riguarda ecco l'altra cosa che volevo dirvi era questa sul capitale sociale io giro molto l'Italia e seguo anche molto il mondo dell'agricoltura e il tema del capitale sociale è nato cioè dell'importanza di stare assieme dell'uno più uno fa tre noi lo chiamiamo della superattività è nato proprio sull'agricoltura e non a caso perché in agricoltura lo sappiamo se ci si mette insieme si risale la catena del valore si creano cooperative consorzi eccetera eccetera se si rimane soli si ha molto meno potere e massa critica ecco questa famosa motto diciamo questo famoso aforisma di Hume racconta la storia di due produttori agricoli 1742 pensate è la base di tutto quello che noi abbiamo fatto poi dopo il dilemma del prigioniero tra sgame giochi della fiducia eccetera due produttori uno vicino all'altro uno dice io dovrei aiutare te tu dovresti aiutare me dice ma io non ti aiuto perché non provo niente verso di te tu non lo fai con me sono diffidente eccetera eccetera e alla fine perdiamo i nostri raccolti cioè la vita è o uno più uno uguale a tre o uno meno uno uguale a zero e il segreto di tutto questo noi diciamo tecnicamente la vita è un social dilemma dove si può fare il gioco di squadra ma fidarsi è rischioso perché la fiducia avviene in un contesto di informazione incompleta e di contratti incompleti non esiste una protezione contrattuale con tutti i rischi di abuso nella fiducia questo è quello che noi chiamiamo capitale sociale è bellissima la storia del nostro paese possiamo fare i casi dell'uno più uno uguale a tre e i casi dell'uno meno uno uguale a zero sono proprio storie mettiamo Melinda Copro B tutto il mondo delle cooperative che funzionano in Italia e sotto ho fatto degli esempi a caso ma esempi concreti le nocciole nel Casertano le arance a Caltagirone produttori agricoli nel Salernitano cioè persone che si lamentano ma che di fatto non hanno saputo fare massa critica non hanno saputo mettersi insieme per cui per me questo è il segreto dell'economia l'economia è il gioco del trapezista cioè nell'economia è il gioco della fiducia è un gioco sequenziale dove c'è qualcuno che deve buttarsi senza sapere se poi sotto c'è qualcun altro che ti raccoglierà è lì tutto il rischio e noi studiamo anche come economisti tutto il tema di come il capitale sociale di come il capitale sociale si produce cioè cosa perché l'Italia ha livelli di capitale sociale così diversi il Trentino da una parte l'Emilia pensate al livello di capitale sociale che c'è a Ferrara o a Reggio Emilia e poi abbiamo altri casi anche non dove c'è criminalità tipo l'Abruzzo o la Sardegna quindi la storia del capitale sociale è molto molto interessante e questo è il segreto che io chiamo la ricchezza delle regioni è il libro che è uscito adesso sul rubettino dove proprio tutto questo viene messo a sistema la produzione di capitale sociale la capacità di cooperare sul territorio la super additività che produce tutto questo e un valore che non viene dissipato da buona amministrazione e da istituzioni finanziarie non predatorie che ristituono dirlo nel Veneto diciamo c'è qualche difficoltà ultimamente però è molto importante poi quell'ultimo miglio cioè le istituzioni finanziarie che raccolgono la ricchezza dei territori la riportano sul territorio e quindi per esempio oggi noi misuriamo dal dividendo delle fondazioni del territorio noi sappiamo quanta ricchezza è stata prodotta nel territorio nella storia e quanta di quella ricchezza ancora lì è rimasta questo è tutto la diciamo le regole d'oro per creare capitale sociale molto interessanti alcune sono molto micro altre meno per esempio come nascono le fondazioni di comunità gli acceleratori di capitale sociale sapete fondazioni che raddoppiano capitale sociale creato da persone sul territorio molto interessante è il punto due è un po' difficile da dire ma sono proprio casi di cooperazione agricola penso alla Locride penso a Goel Bio quindi cooperazione agricola in terrini molto difficili la cooperazione nasce anche grazie alla pratica del gift exchange del dono cioè quando ci sono delle persone che danno di più di quello che dovrebbero dare da un punto di vista diciamo statutario legale o delle compagnie e perché è quel dare di più che produce la fiducia quel gift exchange quella capacità di dono crea fiducia crea relazioni e quando si creano relazioni poi violare quelle relazioni che si sono create diventa più costoso che mantenerle e qui ovviamente bisogna saper creare dei giochi a somma positiva diciamo si coopera se si diciamo noi nel mondo dello studio se si lavora per un esame universitario non se si lavora per un concorso a un posto quindi il modo in cui si costruiscono le gare i giochi è molto importante devono essere giochi a molti molti vincitore però ecco una cosa che mi interessava accennare è anche questo cioè abbiamo sentito a me sorprende molto essendo partito da una logica molto del consumatore del cittadino vedere quanto oggi gli imprenditori nonostante le difficoltà i costi sono attenti e interessati al tema della responsabilità sociale e questo perché negli studi sulla felicità gli studi sulla felicità ci dicono un'altra cosa prima siamo rimasti molto colpiti dall'esempio blood blood perché il tema diciamo noi che studiamo la felicità sappiamo che la felicità la soddisfazione di vita delle persone dipende dalla loro generatività John Stuart Mill diceva non sei felice se cerchi la tua felicità di per sé ma se fai qualcosa di utile anche per gli altri arte, scienza, filantropia trovi la tua felicità lungo la strada oggi c'è una nuova generazione di imprenditori almeno ne vediamo molti così che sono più ambiziosi perché non mirano solo al profitto ma mirano al profitto e all'impatto cioè oltre al profitto vogliono avere un impatto vogliono essere generativi pensate anche a tutta la nuova generazione dei grandi del digitale cosa stanno facendo adesso Gates, Amugiara eccetera cioè c'è questo desiderio oltre di far soldi di fare lasciare qualcosa di utile per il proprio territorio quindi la generatività l'impatto è una molla enorme che oggi sta cambiando quindi non c'è solo il fatto che ti devi adeguare alle nuove normative che ti devi adeguare alla pressione dei fondi di investimento eccetera eccetera ma c'è anche secondo me un desiderio che nasce dagli imprenditori e c'è questo dato interessantissimo che noi abbiamo misurato con relazione tra sense of life e mortality la povertà di senso della vita è una malattia cioè le persone che questo è un campione degli over 50 in tutta Europa dichiarano una bassa ricchezza di senso della vita hanno anche una mortalità più alta vado verso la conclusione per dire che secondo me questa è anche un'opportunità quella della sostenibilità oggi non vendiamo una commodity ma vendiamo una commodity cioè la nostra competitività si gioca su tre dimensioni ogni produttore fa da sempre in qualunque settore si trovi alcune cose cioè deve cercare di diversificare il prodotto di innovare per realizzare poi dei vantaggi competitivi e di estrarre il surplus dai consumatori cioè estrarre la massima disponibilità dai consumatori capendono i gusti oggi ci muoviamo su tre dimensioni non si vendono pere, mele, latte ma si vendono prodotti si vendono simboli dentro quei prodotti l'ultimo incontro sono stato al forum agroalimentare a Milano Marittima ed era interessantissima presentazione di tutta una serie di attori Grana Padano altri tutte le nuove linee free from o salute o sostenibilità o bio eccetera quindi la diversificazione e la segmentazione si caricano i prodotti di simboli di valori e ovviamente l'esperienza è la terza dimensione su cui si può giocare quindi diversificare la sostenibilità la tracciabilità la trasparenza la nazionalità del prodotto ecco questa è la cosa che mi piace di meno a me perché io penso che si debba difendere la persona e l'ambiente ovunque si trovi senza confini e non perché dobbiamo seguire anche le mode anche l'equo solidale adesso c'è l'equo solidale italiano lo zucchero nostrano eccetera eccetera basta che non torniamo al caffè caffè olla diciamo che allora ok quindi e quindi per esempio tutto è interessante appunto vi dicevo Grana Padano che ha fatto kosher lo salt biodop quindi tutta una serie di linee di prodotti ed è interessante come certe cose sulla salute siano considerate valide a prescindere si diceva che i prodotti liberi da glutine sono consumati da dieci volte più consumatori rispetto a quelli che hanno problemi di celiachia e lo stesso i prodotti kosher vengono considerati di altissima qualità e quindi sono consumati anche da persone che non sono di religione ebraica quindi la mia conclusione qual è la mia conclusione è che torno indietro al tema della generatività la mia sintesi è questa la sostenibilità ambientale ormai non si può scappare lo facciamo è sicuramente una cosa che se non c'è non siamo competitivi oggi e domani arriverà qualche regolamento è stato detto più severo arriveranno i fondi di investimento e quindi bisogna ed è però anche una cosa che non facciamo solo per questo motivo ma è un'occasione secondo me di generatività e di impatto sociale quindi è un'occasione diciamo per la nostra soddisfazione di vita i due nuovi temi grossi che stanno crescendo sono quelli della sostenibilità sociale e della sostenibilità fiscale sulla sostenibilità sociale bisogna mettere in moto anche qui un'inversione di tendenza ancora non è non è competitivo non è conveniente pagare bene il lavoro non specializzato in questo momento ma le cose stanno cambiando rapidamente stanno cambiando le regole e presto anche su questo fronte ci sarà qualcosa di nuovo l'altra cosa importante era il tema della mia relazione l'abbiamo visto soprattutto nel settore dell'agricoltura la cartina di tornasole del capitale sociale è fondamentale l'unione fa la forza la capacità di mettersi assieme la cooperazione sono proprio le variabili di sopravvivenza per questo settore ma ovviamente la cooperazione non è un gioco facile la fiducia noi la chiamiamo social risk ha dei rischi e quindi l'arte del creare capitale sociale molto importante va coltivata e quindi il mio augurio che voi possiate continuare in questa direzione grazie grazie professor Becchetti appena prima di iniziare il dibattito vorrei chiedere a Giorgio Garofolo professore di filosofia che ha dato la prima scintilla al progetto della sostenibilità in Teseo che poi ci ha accompagnato anche con i contenuti del progetto acqua ed energia Giorgio cosa emerge dalle relazioni di oggi in breve c'è qualcosa che non è emerso? No ci sono emerse tantissimi spunti è stato molto positivo secondo me questo io volevo semplicemente dare anch'io il mio piccolo contributo per dare una testimonianza insomma che anche noi come scuola ci stiamo muovendo molto in questa direzione nella scuola in cui lavoro da due anni mi abbiamo fatto portare un indirizzo liceale di tipo economico sociale e vedo gli interessi forti dei ragazzi in questa direzione e noi lo stiamo proprio costruendo mettendo al centro i temi dell'economia circolare i temi della della sostenibilità che a me piace parlare piace indicare soprattutto come una forma di responsabilità e stiamo cercando di educare i ragazzi proprio a questo a questa dimensione perché non sia semplicemente come dire una serie di vincoli a cui prima o poi bisogna adeguarsi ma diventi un insieme di scelte appunto che nascono dall'interno insomma dei ragazzi noi stiamo lavorando molto e molto convintamente in questa direzione e credo che appunto anche i futuri consumatori eccetera avranno sempre più presenti insomma questa dimensione di scelte di scelte di scelte